Ecco da Behringer quella che potrebbe sembrare una classica docking per iPhone, infatti l'iPhone è dockato, ci sono due casse, però la caratteristica fondamentale e importante di questo prodotto è che in realtà le casse sono removibili, vedete si staccano, una può essere messa in un punto, in un altro in un altro punto, in realtà quel posizionamento è semplicemente per ricaricare le casse, è una base di ricarica, le due casse sono wireless, quindi possono essere spostate nella stanza dove meglio si crede, vedete c'è l'impostazione perché diventino cassa destra e cassa sinistra, quindi sono assolutamente identiche, sono due esemplari uguali, possono essere anche invertite eventualmente e la base pensa a ricaricarli quando è a riposo e poi possono essere portate invece nel punto dove si sta ascoltando la musica.